ciao a tutti e bentornati sul mio canale come vedete non sono all'interno della solita location ma come ho già spiegato in video precedente in questo periodo di lockdown di colori appunto rossi o arancioni ci piaceva andare insomma a pubblicizzare le aziende romane in questo caso e utilizzando per i nostri outfit i prodotti delle stesse appunto attività commerciali mi trovo all'interno di lean store e poi trovate tutte le informazioni che riguardano l'attività nella infobox sto indossando un vestito dell'appunto del di lean e vedremo adesso degli outfit fatti proprio con i prodotti che troverete all'interno della boutique l'elemento protagonista del nostro outfit è la gonna di jeans che non è una banale gonna di jeans ma come potete vedere dal taglio è un po a palloncino alle tasche io adoro le tasche sia sui vestiti che anche nelle gonne e quindi potete giocare molto anche con queste mani in tasca insomma gonna particolare che può diventare qualcos'altro comunque può cambiare la sua personalità in base a ciò che noi abbiniamo mi piaceva sdrammatizzare da una parte ma renderla anche molto femminile aggiungendo un top tipo lingeria insomma e con il pizzo nero volutamente perché poi questi abbinamenti blu nero li trovo di gran classe e diciamo che così potrebbe essere diciamo una buona soluzione per valorizzare la gonna ma per mettere fuori tutta la vostra femminilità sempre la nostra di jeans a palloncino cambia aspetto totalmente aspetto se mettiamo una giacca corta in vita perché non deve coprire il bello del taglio della gonna o tutt'al più anche una maglietta all'interno insomma l'importante è tenere scoperta la parte relativa alla vita la giacca adatta sia a questo outfit quindi completa l'immagine della della gonna ma la giacca devo dire è un elemento must have di questa stagione perché copre e ma comunque rimane sempre bella a veder io aggiungo un cerchietto proprio in contrasto e tra l'altro qui e da lean store ci sono dei cerchietti molto belli un cerchietto di colore contrastante e magari aggiungete una sneakers una scarpa da ginnastica e la vostra gonna di jeans è diventato diciamo un elemento protagonista in un abbigliamento un po più sportivo ma restando sempre molto femminile il protagonista dell'outfit è il camicione la classica camicia bianca ma versione abito proprio letteralmente camicione semplice largo che può essere anche indossato così ma noi gli diamo più possibilità di outfit come prima cosa aggiungerò come accessorio una collana metterò un cinturone per marcare sempre il punto forte delle donne quindi la vita e in più l'anfibio che adoro in questa versione diciamo estiva primaverile anche se l'anfibio può sembrare una scarta invernale trovo che non sia così chiaramente senza calze assolutamente gamba nuda anfibio cintura camicione che potete sblusare regolando così le lunghezze e l'outfit è perfetto altra soluzione di outfit utilizzando sempre il camicione come protagonista è che se la donna in questione non ha il punto vita e come ho detto poc'anzi con quindi da mettere in evidenza con la cintura al contrario potremmo coprire quindi le rotondità che non vogliamo far vedere con l'utilizzo di un gilet in microfibra molto leggero tra l'altro questo abbinamento bianco beige che trovo raffinatissimo lasciarlo così com'è senza aggiungere altri diciamo altri capi di abbigliamento ma molto particolare è l'aggiunta di orecchini rosati tra l'altro qui dalle hand store devo dire di accessori se ne trovano tantissimi e anche molto particolari e infine ultimo outfit per accontentare quelle un po più sportive che non rinunciano mai al jeans è un jeans da mettere sotto il camicione stretto magari risvoltato sotto facendo in modo che la caviglia rimanga scoperta e aperto affinché tutto il jeans venga visto messo in evidenza ma piuttosto il camicione chiuso a coprire il seno proprio perché alleggeriamo la caviglia quindi mettiamo in evidenza la caviglia possiamo abbinare dei sattali con corda molto sportive molto estive e in più arricchiamo il tutto con degli accessori mettendo proprio anche più collane che è molto bello perché il bianco rimane come base e le collane colorate che richiamano il fucsia e il colore del jeans arricchiscono e completano il nostro outfit oltre gli outfit che abbiamo creato utilizzando dei capi protagonisti ci tenevo a dire che anche i capi che ho indossato all'interno della location di Leon's store sono tutti i capi che potete trovare all'interno della boutique il nostro video di Reshape your outfit finisce qui ringraziamo Leon's store che ci ha ospitato e vi ricordo di iscrivervi sul canale di youtube cliccare la campanella per essere informati ogni qualvolta online un video e mettere tanti mi piace condividere commentare fare richieste seguirmi anche sui canali social di facebook instagram e tito per tutte le informazioni commerciali e tutti i riferimenti inerenti ad attività di Leon's store potete appunto trovarli nella nostra infobox e ricordatevi sempre Reshape your style Ciao 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 Ciao